Buonasera amici del mondo futsal calciacinque, questa sera si sfideranno Buona Eunda contro Nuova Taverna Nonanna, adesso avanza palla al piede se non offensia, pallone dentro e sbaglia da due passi il numero 4 Di Bello adesso ancora avanza sempre Giamporcare, pallone centralmente per Di Bello, la conclusione, la rete da parte di Di Bello per il Buona Onda Frisanna ancora centralmente chiuso regolarmente da Di Bello, adesso ancora sempre Di Bello, si gira la conclusione la rete ancora, doppietta per lui, fischia l'arbitro, parte Frison, la parata ancora per la conclusione la respinta da parte della difesa col tiro di Prospero, ancora la conclusione, ancora adesso allarga il pallone sulla sinistra il pallone dentro e non riesce da due passi di Bello, Giamporcare, Giamporcare se la porta sul sinistro, Giamporcare pallone dentro e la rete, la rete del Buona Onda che va sul 3-0 con Scaringella attenzione adesso c'è il contropiede da parte del Buona Onda, ancora la conclusione, il palo, il palo del Buona Onda il pallone dentro e colpo di testa da parte di Di Prospero e la grande parata qui di Marco intanto è per il non-nanna, attenzione il tiro di Di Prospero, indeciso il portiere Marco qui, parte adesso Tumiatti, la conclusione, la rete, la rete da parte di Tumiatti, il 3-1 accorcia le distanze passaggio sbagliato, ancora Pannone adesso il contropiede per Princi, Princi sulla testa, Princi la conclusione si oppone Luciano molto bene, Scaringella, Scaringella centralmente, Mercuri lo scambio, bellissimo qui Scaringella chiude, Princi, ancora Tumiatti e pallone dentro e la rete, la rete da parte di Frison e adesso è 3-2, ancora Di Bello, serve Mercuri, Mercuri, ancora Mercuri dentro la rete di rigore per Scaringella Mercuri salva Tumiatti, Mercuri fa fuori Tumiatti, serve sulla testa Di Bello, per la ventana di rigore ancora Mercuri, pallone dentro, Scaringella ancora Di Bello e la rete, subito la rete del Buonaonda che passa sul 4-2, Petraccini, il gioco di gambe di Petraccini, Petraccini la conclusione, Bottoni si esalta qui su Petraccini, poi adesso ancora con questo pallone il Buonaonda, ancora Petraccini e la rete, la rete di Petraccini e va sul 5-2 il Buonaonda, intanto si deve ribattere perché era rimesso a trale, per il pallone dentro e Di Prospero, la mette dentro con il piattone la riesce a recuperare Tumiatti, però Mercuri chiude tutto, adesso Scaringella, Scaringella 2-1, Scaringella, Scaringella, 6-3, Buonaonda adesso Frison sulla destra, mette dentro il pallone alto Tumiatti, la sponda di testa per Amadio il palleggio di Amadio, buono, la giocata ed è un gran gol, un gran gol da parte di Amadio quindi Scarpina, adesso Amadio va a far fettare il pallone, Amadio passa, Amadio e pallone dentro Di Prospero e la porta sul 6-5, la porta sul 6-5, partita improvvisamente riaperta subito ancora di bello, Buscalferri, Buscalferri dentro, attenzione, l'autogol l'autogol da parte di Frison, sfortunato qui la finta, lascia sul posto Amadio, ancora Buscalferri, la finta di Buscalferri la conclusione di Buscalferri, 8-5, Buonaonda ancora Amadio, Amadio sulla destra, Amadio, il tocco ancora per Di Prospero il pallone dentro, centralmente la rete, la rete, la rete da parte di Princi Scanzi dentro per Scaringella, dentro Pietraccini può andare in contropiede con Gia Porcaro Gia Porcaro e la conclusione, colpisce il legno può andare al tiro libero, Princi, la conclusione alto sinistra ancora per Tumiatti, va via bene Tumiatti, Luciano ed arriva qui il fischio finale e il Buonaonda va a vincere